Sicuramente oggi è una vittoria importantissima, abbiamo incontrato una signora squadra che nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà però oggi si è visto veramente un gruppo splendido, un gruppo esagerato che sta dimostrando su tutti i fronti di vincere il campionato questo va a dire a qualcuno che ha detto che noi non siamo la squadra più forte, abbiamo vinto tutti i sconti diretti nessuno ci ha più da recriminare perché c'è il Montesarchi che ha dominato per tutto l'anno il campionato Senti, lì davanti una grossa intesa tra te e Insignia, anche se state giocando da poco insieme Sicuramente vorrei ringraziare sia lui che De Mizzio che oggi hanno fatto un lavoro straordinario certo quando hai davanti i giocatori che ti fanno giocare molto più semplice è molto più facile anche per me essere protagonista però voglio fare un elogio oggi al nostro portiere che ha fatto delle parate spettacolari non ho più parole per alleggiare questi ragazzi, ringrazio tutti i tifosi, la società perché oggi è stata una vittoria di un gruppo eccezionale